Allora, il coltello Renazzo, al primo posto, con Martura, a Bebica Sermaglia, 1.46.58. Passaggio, sulla bandiera. Eh, 28. Seconda, la Sede di Giulia, a Bebica Bordina, 1.53.76. Primo se ne va. Starta, Martina Granello, 3.16.00, 0.54.91. Dai Luca! Dai Luca! 3.17. 3.17. 2.17. Dai Luca! 56. 58. 58. 58. 58. Cazzo è passato sotto il minuto. È una bella gara. È una bella gara. 5.17.000, 0.55.91. 1-41, 1-41, 1-41! Facchino scopano! Dai Luca! Dai Luca! Dai, 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 dai! Dai, dai, dai Claudio! Dai, dai, dai! Dai, 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 dai Grazie a tutti.